Due occhi che guardano i passanti sulla via Prenestina sono quelli di Malala, la giovane pakistana che si batte per i diritti all'istruzione delle ragazze nei regimi integralisti e per questo i talebani l'hanno quasi uccisa. Quegli occhi sono il focus di un murale che uno dei più quotati street artist del mondo ha realizzato sulla parete del MAM, l'ex fabbrica di salumi occupata due anni fa a Roma. Lui è Edoardo Cobra, viene dalle favelas di San Paolo e i suoi muri a Arlecchino colorano le capitali del mondo. Malala è un simbolo delle lotte contro la discriminazione femminile. Questo è un brutto momento per le donne. Violenze e aggressioni, a molte di loro viene impedito di studiare. Malala è un simbolo di pace. La giovane pakistana ora sta bene, ha ricominciato la sua lotta, ha dato il via a una campagna web per la liberazione delle 276 ragazzine rapite in Nigeria da Boko Haram, alcune già vendute per pochi dollari. Quest'opera fa parte di un progetto di muri per la pace che sto disegnando in giro per il mondo. A Los Angeles ho ritratto Mandela, Martin Luther King, Madre Teresa e Albert Einstein. I loro occhi sono il centro del dipinto, occhi da cui diffondono la pace. È la prima volta che questo artista viene in Italia e racconta di essere rimasto molto impressionato. Roma è una città iconica. La street art è molto giovane e per me poter lavorare qui è un'esperienza grandiosa, ma quello che mi ha emozionato di più non sono i monumenti, ma il calore e l'accoglienza delle persone. 10 giorni di lavoro sotto la pioggia e centinaia di bombolette. Un'opera come questa vale molte migliaia di euro. Cobra l'ha regalata ai romani, col patrocinio dell'ambasciata del Brasile e dell'assessorato alla cultura e la partecipazione della Dorothy Circus Gallery, che in questi giorni ospita la mostra personale dell'artista. alcune tele che riguardano proprio il progetto dei Volti di Pace. Sono nato in un quartiere povero di San Paolo e ho imparato questo lavoro nelle strade. Mi hanno arrestato tre volte perché dipingevo illegalmente sui muri. ma col passare degli anni sono state le stesse amministrazioni ad autorizzarmi a farlo. In luoghi importanti, come il centro di Los Angeles, vicino al Bolshoi di Mosca e a Times Square a New York. Ad aiutare Cobra un giovane collaboratore è Aguinaldo Brito Pereira, brasiliano anche lui. A fianco di Malala hanno scritto la parola pace con i simboli delle religioni del mondo e la colomba con l'ulivo. Ora chiunque sotto potrà aggiungere, se vorrà, il proprio pensiero. Perché una volta finita l'opera d'arte sul muro diventa di tutti.